Consob è un problema, cioè non si può stare in un paese con un'autority che ha un dovere di affiancamento anche con terza età del governo senza una guida. Non è più accettabile ed è il Parlamento che lo deve dire al governo. Non possono esserci difficoltà politiche ad impedire che una carica come la presidenza della Consob venga in qualche modo designata. Vado a cercare le domande a cui non ho risposto. Consob. C'è quale azione il governo vorrà prendere? Beh, l'azione che vorrà prendere sarà quella di nominare il presidente della Consob. Credo che... Non so adesso se ho dato una grande notizia che l'azione che intende prendere il governo è di nominare il presidente della Consob. C'è questo. Spero che venga il prima possibile. C'è un dibattito. Diciamo che le regole dicono che il presidente della Consob viene nominato su proposta del presidente del Consiglio e poi dal capo dello Stato che lo nomina.